La camminata sulle valse ogni anno fa scoprire luoghi incantevoli del territorio. Quest'anno uno dei più nascosti, ma allo stesso tempo suggestivi e bellissimi. A Castiglione-Ubertini la chiesa risalente al 1300, tra le più antiche del territorio. Sorella Immacolata e sorella Agnese la curano come un prezioso scrigno da custodire. Loro, monache di preghiera, arrivate dalla Puglia e dalla Campania, vivono lì dal 97, nella località che conta circa 30 anime. In pratica questa risale al circa 1300, fine 1300, inizi del 400. L'antico insediamento non era qui, al Castellare era. C'era una rocca degli Ubertini, mi pare, che erano in rotta, in conflitto, con Firenze ed erano alleate di Arezzo. No, erano con gli fiorentini alleati degli Arezzo. Siccome poi è successa una questione di... perché la rocca degli Ubertini è proprio lì, sul poggio dove c'è la strettoia dell'Arno, ed era un posto strategico. hanno fatto un volta faccia, quindi hanno girato le spalle agli aretini e si sono messi con i fiorentini. Per cui questa cosa non è andata bene. È successo che poi sono stati rasi al suolo. E con la vita risparmiata, però, con la condizione di ricostruire senza fortificazioni. Dove si sono insediati? Per la prima cosa che hanno costruito è stata la chiesa. Quindi questa, diciamo, è la cosa più antica. Poi hanno costruito Monticello. Ah, ok. Però è chiaramente senza fortificazioni. Adesso se uno va a vedere là non è una cosa antichissima. Però qui c'è la chiesa che risale appunto alla fine del 300, inizi 400. La chiesa è aperta ogni domenica per le sante messe e per le visite. Merita un passaggio. È a pochissimi chilometri dall'Evane e raggiungibile da ogni parte del territorio del Val d'Arno.